intanto buongiorno e benvenuto su all music italia e iniziamo subito parlando della del tuo ultimo singolo dal titolo normale che vanta questa produzione di motta e quindi vogliamo sapere come è nata la vostra collaborazione e insomma vogliamo un po il racconto di come è successo se è successo prima di x factor o dopo x factor insomma raccontaci allora io e francesco ci siamo conosciuti a una festa prima di x factor vabbè una storia lunga faccio tipo sfumo brevemente perché è divertente e presente era andato a un evento a cui mi avevano invitato al centro di roma e questo evento era finito a un certo punto tipo alle nove di sera però ero un po il ticcio ho bevuto e non volevo tornare a casa alle nove di sera quindi ero con una mia amica gli ho detto vabbè andiamo in giro vediamo che c'è e vicino a questo evento c'era un altro evento però tutto barricato pieno di guardie insomma per per controllare chi entrava chi usciva e io vado là gli faccio senti io ho questo braccialetto che però era dell'altro evento mi sono imbucato mi hanno fatto entrare ed era un evento assurdo c'era un botto di gente e ho visto motta allora gli faccio il fan praticamente cioè vado là gli dico io sono tuo fan faccio anch'io il musicista così poi ho la fortuna che conoscevamo un amico in comune che che fa troppo ridere allora gliel'ho detto subito perché insomma sono paraculo alla vado là gli dico senti c'abbiamo questo amico in comune non mi prende subito in simpatia e e niente praticamente che succede che che mi dice mandami le cose io non credo mai a queste cose perché dico vabbè figura di se se sente poi il giorno dopo mi ricordo ci siamo sentiti su instagram tipo che ci siamo seguiti cioè che lui mi ha riseguito io già lo seguivo ovviamente e e mi dice vabbè mandami le cose allora ho detto vabbè evidentemente gli interessa questa cosa tra l'altro era successa la stessa cosa con la mia etichetta anni fa che mi dice mi disse mandami le cose non gli avevo creduto e mi aveva riscritto mandami le cose quindi evidentemente ogni tanto della mia vita ritorna questa cosa e e niente quindi gliel'ho mandate non ci siamo più sentiti sono uscito da x factor lui mi ha detto sono contento che ti hanno eliminato no nel senso che che comunque ha detto così possiamo metterci subito in studio ha detto che cazzo fighissimo quando vuoi e niente quindi poi siamo messi in studio avevo già scritto normale lui l'ascoltata gli è piaciuta e niente ci siamo ci siamo trovati subito bene un bellissimo racconto comunque quindi approfondendo il concetto di normalità è interessante notare che tu ti chiami alieno quindi altro rispetto ad un luogo e parli di normalità quindi cos'è per te la normalità e cosa ti fa sentire normale è difficile difficile dirlo perché non è che mi ci sento molto però però ecco come nella canzone come dico ma io credo che nessuno si sente normale io ho questa teoria nessuno si sente normale però nella gara diciamo perché viviamo anche in un momento in cui ognuno non è che si rapporta direttamente con un'altra persona e basta ma in questo momento tutti sono esposti davanti a tutti attraverso i social ma in generale è anche un periodo in cui la carriera le persone hanno una una concezione di se stessi come se fossero veramente sempre esposte al pubblico compreso me che faccio questo lavoro ma anche chi non fa un lavoro legato allo spettacolo e quindi secondo me nel rapportarsi col mondo esterno così liberamente tipo nel mare aperto uno spesso dentro di sé magari non si sente normale cioè sente un difetto rispetto alla gara continua che c'è con gli altri ma comunque mette la maschera di di magari dice vabbè io sono sono così sono come tutti o magari quando uno scrolla su sui social vede una persona che può sembrare cioè la normalità può sembrare una vita che non corrisponde totalmente alla realtà ecco e quindi in realtà sotto sotto poi quando uno che sta fingendo di essere normale un altro che sta fingendo di essere normale si beccano dicono ma guarda in realtà non mi sento normale neanche io poi in quel momento forse è il caso che che due si sentano veramente normali ecco è un concetto relativo comunque appunto la normalità di base a qualcosa comunque o al contesto quindi è difficilissimo da 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 definire ti ho fatto una domanda tra bocchetto è strano rispetto cioè la mia domanda è rispetto a cosa capito eh certo certo sì sì e invece tornando al tuo al tuo percorso da da musicista prima di entrare ad x factor tu avevi un percorso delineato e definito avevi anche due album alle spalle quindi che cosa ha rappresentato per te quel talent e sei dovuto fare dei compromessi con te stesso e la tua visione della musica allora compromessi no nel senso che che comunque alla fine non è secondo me non è vera la la storia che uno racconta spesso che ti prendono e cercano di manipolarti oppure anche legato al mercato discografico che che la discografia ti prende e cerca di creare su un mostro su di te tipo frankenstein non è vero purtroppo cioè purtroppo non è vero perché ormai la discografia non gliene frega più niente mettono i soldi quando un progetto già sta andando e non fanno niente ormai quasi cioè una cosa non è il problema non è che creano dei mostri sarebbe pure figo perché a quel punto dici vabbè sono dei creativi non interessa cioè vedo chi cosa diventa virale e basta quindi stessa cosa vale nel senso ovviamente non in questo modo negativo vale nel momento in cui ti scrivi un programma televisivo quello che succede è quello che fai tu e come lo fai con quelle scelte che prendi insieme magari al tuo giudice poi fanno il tuo percorso nessuno decide per te ecco quindi è stata un'esperienza importante sicuramente il fatto di cantare canzoni di altri era un limite perché non sicuramente non c'è la voce per farlo e poi scrivo canzoni in realtà nella vita quindi era un limite che però mi è servito per innanzitutto conoscere a fondo sia me sia me stesso che le canzoni che stavo cantando che non erano mie e sono è stato un modo per per conoscermi sicuramente e anche per per conoscere anche il mio modo di scrivere paradossalmente perché comunque non potendo eh cantare quello che scrivevo e non c'era neanche tantissimo tempo per scrivere proprio lì dentro perché comunque eravamo molto impegnati eh c'è una voglia assurda infatti appena sono uscito ho scritto un sacco e quindi è servito anche a a a a spronarti a a continuare sempre di più il tuo percorso e rispetto per esempio alle cover che hai fatto là dentro ce n'è qualcuna a cui sei più affezionato che hai prodotto e ti e ti è piaciuto più cantare eh all'interno di x factor allora guarda paradossalmente l'ultima cioè costruire tantissimo quella con cui sono stato eliminato ma perché allora ti qua pure ti faccio un racconto breve è stata un non so perché c'era c'era stato un momento in cui io sentivo che sarei potuto uscire dal programma non so come dire cioè sentivo cioè forse il fatto è che alla fine eravamo rimasti tutti bravissimi quindi potevo uscire chiunque non so come dire cioè e quindi avevo pure questo brano che oltretutto mi ricordo che Morgan la settimana prima aveva sottolineato che avevo che ero stonato completamente stonato dei problemi gravissimi c'è gente che ha problemi più gravi ecco e comunque insomma un po' mi era dispiaciuto no perché dico oddio sembrava un medico che ti ha diagnosticato una malattia mortale questa stonatura e quindi poi mi è stato dato questo brano che diceva costruire e sapere rinunciare alla perfezione quindi mi ero un po' c'era entrato molto anche perché lo conosco benissimo il pezzo e niente quindi sono entrato proprio completamente nella canzone ho chiesto se mi potevano comprare già ce l'avevo a casa ma non l'avevo portato lì ho chiesto se mi potevano comprare 900 di baricco che è un libro che mi apre proprio ciò a creare delle emotività piango sempre e quindi sono stato tutto il giorno del giovedì a leggere quel libro per entrare proprio in una sfera emotiva in cui dovevo salire sul palco e essere proprio fragile e quindi sono entrato proprio in tutta questa in questa sorta tipo di stato emotivo completamente completamente leggero ecco senza alcun cioè non ero più tipo devo cantare bene cioè perché lì capito dopo quello che mi era stato detto ho detto che faccio canto da paura come un cantante ma io non sono non faccio questo nella vita nel senso perché devo sforzarmi tanto non mi riesce quindi preferisco entrarci col cuore e infatti ho anche detto che nell'esibizione cantavo a una persona che era una ballerina ho anche detto a a chi lavorava lì ho detto per favore potete dire a una persona che che era importante che sta nel pubblico ho detto io la sto cantando per lei cioè la sto cantando per la ballerina perché sennò pareva pure brutto nel senso e quindi è stato bello cioè è stato proprio un'esibizione che mi sono vissuto totalmente in modo emotivo e quindi quando sono uscito sono stato pure contento di uscire con un pezzo così eh sì ha mostrato tutte tutta la la fragilità e spesso però la fragilità appunto non viene non viene compresa in maniera proprio totale e a volte appunto poi cioè chissà non sappiamo neanche perché cioè alla fine sei uscito tu e non un altro ma X Factor ha anche delle dinamiche strane insomma negli anni io che mi occupo della trasmissione dal punto di vista di di appunto scrivere eccetera eccetera ho visto che sono veramente dinamiche assurde a volte quindi eh sì sì ma guarda ti dico io in quel momento ero proprio felice nel senso non non perché me ne volevo andare però sentivo che stava tutto accadendo nel modo giusto cioè ero proprio poi quando ho visto che Angelica andava al ballottaggio che comunque mia mia amica proprio del cuore e io credo che sia una delle delle voci più incredibili che ho mai sentito nella nella mia vita quando ho visto che andava contro il mio ho detto vabbè è tipo Davide contro Golia ha detto vabbè cioè basta cioè ed ero felice ero proprio sereno così bene e invece a proposito di libri e di cantautori io ho nel cuore un libro di Claudio Bernieri che si chiamano Spalate sul cantautore ed è una raccolta di interviste dei cantautori alla fine degli anni settanta e si parla anche di come era cambiato il ruolo del cantautore in quegli anni cioè parla di canto politico anche di racconto poetico insomma io chiedo a te che sei un cantautore secondo te oggi che ruolo ha il cantautore sono giorni in cui me lo chiedo innanzitutto perché comunque sto scrivendo un nuovo disco e sono giorni in cui me lo chiedo secondo me io credo che comunque è molto cioè il ruolo è molto legato al racconto innanzitutto cioè raccontare cioè delle cose raccontare delle cose quindi partire da questo cioè la domanda è cosa io credo che comunque le persone sono sempre sono sempre distratte sempre più vanno sempre più cioè che magari non hanno il lusso l'occasione di poter ragionare sulla loro vita sulla società in cui vivono sul momento storico su cosa potrebbe accadere cioè magari spesso è un lusso potersi fermare stare a pancia all'aria e pensare ecco all'essere umano cioè uno deve lavorare giustamente e andare avanti no e non si fa troppe domande ecco un cantautore forse come anche altre forme d'arte è quella persona che un po' si può permettere diciamo il lusso di raccontare per gli altri e per se stesso quello che sta vivendo cioè la propria vita o alla vita di tutti o la società in cui vive e c'è chi lo fa con un occhio critico chi lo fa con un occhio di dolcezza chi lo fa cioè secondo me è un po' un modo per cioè io quando ascolto i cantautori è un modo per capire meglio la mia vita cioè e capire meglio dove mi trovo e cosa sta succedendo e questa cosa qui credo che sia anche il modo per cioè il motivo per cui non si estingueranno mai anche se sembra che stiamo in via d'estinzione comunque no è impossibile cioè sono sicuro che anche se in classifica non ci sono i cantatori in questo momento tra vent'anni ascolteremo Giovanni Truppi e Brunori cioè ascolteremo loro perché loro stanno raccontando in un modo anche difficile cioè un'altra cosa che secondo me distingo un cantautore da magari ecco un ragazzino che magari dice vabbè non so niente di musica non so fare niente butto un microfono metto l'autodunne e canto che comunque è una forma d'arte secondo me c'è un livello diverso di ricerca e di spessore nel senso che magari a volte non vale per tutti i cantautori però Giovanni Truppi è proprio difficile non so come dire per scrivere come scrive lui devi essere lui e lo devi saper fare ce n'è solo uno non so come dire non è facile non è che dici vabbè dai c'è un amico mio che fa musica andiamo in studio cioè è complicato quindi quella cosa lì è anche un valore che adesso si è un po' perso riconoscere questo valore secondo me cioè dire cioè non si capisce più chi è bravo chi non è bravo basta vedere i numeri però in realtà se poi va a vedere uno che sa scrivere è una persona che magari neanche gliene frega niente di scrivere comunque ci si sente la differenza secondo me sì è una una riflessione molto molto importante anche su penso sia quasi oggettivo a un certo punto quello che resterà quello che resta secondo me è chiaro cioè nel senso è una persona che cioè poi non è bello magari collegare l'arte a una a qualcosa magari di sportivo no? però se ascolti un bel disco scritto bene è come vedere Bolt che corre e fa 100 metri cioè nel senso non ce ne stanno tanti non sono cioè oggettivamente l'arte non è oggettiva però in realtà se ci pensi c'è una differenza se ascolti uno che magari ha fatto 10 milioni di streaming però si sente che che c'è che lo potresti fare tu lo potrei fare io domani e è uno che invece dici cazzo scrive una cosa così come c'è arrivato cioè quella cosa lì è oggettiva cioè non è che cioè si sente quindi secondo me quello rimarrà e a proposito di scrittura quanto si intreccia la tua storia personale con quello che scrivi? eh tanto sicuramente tanto ma perché non è tanto autobiografica cioè in realtà molte cose che sto scrivendo nuove sono molto autobiografiche però penso sia più il fatto del mio sguardo in realtà cioè credo che comunque ci sia sempre una mia il mio punto di vista sulle cose anche se non riguardano me direttamente cioè magari parlo di altro però sempre con un mio punto di vista ecco e invece rispetto hai detto che stai scrivendo un disco quindi rispetto ai prossimi progetti futuri c'è sicuramente questo disco ma ci puoi dare qualche anticipazione eh guarda lo sto lo sto facendo adesso questo è il mio studio è è un disco cioè non lo so in realtà sono ancora in fase di di scrittura nel senso che c'ho un po' di canzoni però mi voglio un attimo prendere del tempo perché mi piacerebbe fare un disco coerente che abbia una un'anima unica perché comunque è stato bello sperimentare per questi due album che però indubbiamente sono anche molto variegati dentro cioè mi piacerebbe invece fare qualcosa di più di più centrato non so come dire quindi selezionare le canzoni giuste ce ne ho un po' poi mi sta anche aiutando Francesco eh motta come un po' la botta in questo momento sì c'era la connessione non stabile spero che ci sia registrato tutto io sentivo tutto perfetto perfetto no 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 a posto in qualche parte di internet sarà uscita ci sarà ci sarà no 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 quindi ti stai cioè nel senso c'è anche motta che collaborerà per questo questo disco quindi ti seguirà ancora sicuramente sicuramente in questo momento ci stiamo continuando a vedere e gli sto facendo ascoltare le canzoni poi nessuno lo sa perché purtroppo cioè siamo comunque persone un po' anormali quindi può succedere di tutto cioè può succedere che domani lo chiami dicendo guarda sto in Africa per quattro anni o viceversa cioè giusto non può succedere e invece ci vuoi ricordare i tuoi prossimi live che ti vedranno a maggio di nuovo sul palco e allora sì ci vedremo a maggio per chi verrà sono contento per chi viene e siamo Livorno Bologna e Torino 10 14 17 maggio mi sembra io purtroppo con la memoria non sono proprio bravo sono smemorato e stonato però ho anche dei difetti il cantautore perfetto è un lavoro perfetto giustamente dici stai sul palco ti scordi le cose stoni ho scelto il lavoro per la mia vita ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato grazie a te e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e ci rivediamo grazie grazie